Tanta la partecipazione nel pomeriggio di ieri presso l'hotel Best Western a Crotone per il ritorno del vice segretario del Partito Democratico Lorenzo Guerini che spiega le ragioni del sì per il prossimo referendum del 4 dicembre. Aggiungendo ai nostri microfoni diffidiamo dei sondaggi evitando il condizionamento. L'Italia è un paese moderno e noi abbiamo bisogno di cambiare la seconda parte della Costituzione per migliorare il sistema lavorativo di tutto il paese. Bisogna stare dentro questa comunità con lealtà cercando di tutti insieme di lavorare per i risultati che il partito si profigge e per realizzare le decisioni che insieme si assumono. Stimolo è qualche sondaggio che può sembrare negativo come condizione di partenza dopodiché se c'è un dato abbastanza chiaro è che i sondaggi forse è anche complicato farli. Per quanto riguarda i sondaggi italiani vedremo, io penso che non dobbiamo farci condizionare eccessivamente stiamo lavorando, mi pare che più si parli del merito della riforma più crescono le ragioni del sì dopodiché arriveremo al 4 dicembre.